Glitch per trovare sempre le skin speciali su StumbleGuys Come primissimo passaggio ci darebbe in tre richieste di amicizia Non una in più, non una in meno E subito dopo volare nel negozio oggetti di StumbleGuys E shoppare un giro totalmente comune Ma attenzione, ovviamente la skin speciale non si troverà qua Ma si troverà nel giro dopo Infatti come ultimo passaggio per trovare la skin dovremo andare a shoppare la... Vi lascio tre secondi per iscrivervi al canale e lasciare like Attenzione, tre, due, uno e... Dovremmo andare a shoppare la ruota del gridiron Procediamo con la ruota e signori Eccola qua davanti ai nostri occhi La nuovissima speciale